Facciamo chiarezza un po' sulla situazione che riguarda Via Modenese? Sì, è una situazione molto complicata sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo perché il muro che vedete alle mie spalle risulta in proprietà privata. Dopo una consulenza legale e dopo un confronto serrato con il Comune di Pistoia ha detto noi non possiamo intervenire perché in realtà questo muro lo ha fatto l'ANAS ai tempi in cui ha costruito la strada e non è un muro che sarebbe stato necessario per reggere il nostro bosco ma è un muro che è stato fatto proprio a necessità della strada. Il Comune e questi privati proprietari hanno fatto un accordo, loro metteranno in sicurezza il fronte e i loro lavori sono già iniziati e come vedete è stata già installata una rete paramassi che dovrebbe impedire ulteriori distacchi e cadute dei massi lungo la strada. Mentre il Comune di Pistoia si prenderà carico del rifacimento del lungomuro. È già pronto un piano di fattibilità e la cifra è circa di 600-700 mila euro. C'è in preparazione un progetto strutturale che poi andrà al genio civile per le concessioni del caso e che poi noi provvederemo a mettere a gara. Gli interventi però richiedono ancora molto tempo. Speriamo che nel 2024 siamo riusciti ad avere il progetto definitivamente approvato anche dal genio civile e da tutti gli altri enti, aver reperito la somma sul bilancio comunale e poi finalmente di poter procedere con la gara. Una gara un po' complessa, una gara che comunque ha già di per sé dei suoi tempi e poi una realizzazione che non sarà anche quella brevissima. Ci vorranno probabilmente qualche mese e poi speriamo finalmente di riuscire a riaprire la strada definitivamente. C'è stata qualche protesta nei giorni scorsi ai cittadini del rappresentante dell'amministrazione comunale che cosa risponde a queste persone? Hanno ragione nel senso che sicuramente è un disagio però è anche vero che sono questioni che non sono prevedibili. Questo muro ha tantissimi anni, c'è una proprietà sopra che è particolarmente problematica perché è una boscaglia, nessuno ci fa niente, è un po' abbandonata e quindi è chiaro che possono avvenire episodi di questo genere.